Un tuffo nella storia per il Giro d'Italia, la tappa di oggi è partita da Pompei, allora ci colleghiamo subito in diretta con la nostra inviata Valentina Bisti. Dopo un giorno di riposo la corsa è partita da Pompei e questa mattina i 22 capitani delle squadre in gara sono entrati nel parco archeologico, nell'anfiteatro per una foto ricordo con il trofeo senza fine. La foto simbolo di questa decima tappa del Giro d'Italia, un percorso di 142 chilometri con una salita finale di 18 chilometri che porterà a Cusano Mutri nel Beneventano. Stare indiscussa è sempre lui, lo slovenno Tadej Pogacar che detiene la maglia rosa, noi con Alfredo Ranà.